Cari amici del canale, sono entusiasta di accogliervi oggi per una conversazione che va al cuore della nostra esperienza umana, il coraggio di essere se stessi. Prima di immergerci in questo affascinante viaggio di scoperta e trasformazione personale, vorrei chiedervi un piccolo favore che potrebbe fare la differenza nel sostenere questo canale e il nostro impegno nel portarvi contenuti significativi. Vi invito a premere il pulsante di iscrizione se non lo avete ancora fatto, così potete continuare a crescere e condividere idee stimolanti insieme. Un semplice like a questo video rappresenterà il vostro sostegno tangibile, un segnale che ci incoraggerà a creare sempre più contenuti che possano ispirarvi e accompagnarvi nel vostro percorso di crescita personale. Siete pronti a esplorare il coraggio di essere voi stessi? Allora, iscrivetevi, lasciate un like, e preparatevi per un viaggio che potrebbe cambiare la prospettiva con cui guardate a voi stessi e al mondo che vi circonda. Grazie per il vostro sostegno continuo, e ora, immergiamoci insieme in questo avvincente discorso sul coraggio e sull'autenticità. Onorevoli ospiti, cari amici, è un onore ed un privilegio trovarmi qui oggi per condividere con voi riflessioni profonde sulla bellezza e il coraggio di essere se stessi. Viviamo in un mondo in cui spesso ci troviamo a lottare contro le aspettative degli altri, cercando di adattarci a standard che ci sono imposti, dimenticando che la vera forza risiede nella nostra autenticità. Il coraggio di essere se stessi è come una fiamma interiore che brucia nel profondo del nostro essere. Spesso, ci troviamo di fronte a una società che ci insegna a conformarci, a mascherare la nostra autenticità dietro un velo di convenzioni sociali. Ma oggi, vi invito a considerare la bellezza intrinseca che risiede nella vostra unicità. Immaginate un mondo in cui ognuno di noi avesse il coraggio di esprimere la propria verità, di essere autentico senza timore del giudizio. Questo mondo non sarebbe solo un luogo di accettazione, ma anche un terreno fertile per la crescita personale e collettiva. Ogni individuo porterebbe il proprio contributo unico, creando un mosaico di esperienze e talenti che arricchirebbe la nostra società. La strada per essere se stessi richiede un coraggio particolare, una determinazione a resistere alle pressioni esterne e a seguire la voce interiore che ci guida. Spesso, ci sono sfide lungo questo percorso. L'opinione degli altri può sembrare un ostacolo insormontabile, ma è importante ricordare che il vostro valore non è determinato da ciò che gli altri pensano di voi. La bellezza di essere se stessi sta nel poter guardare allo specchio e amare la persona che vi riflette. Imparate a riconoscere la vostra unicità come un dono prezioso, un regalo che solo voi potete portare al mondo. Quando abbracciate la vostra autenticità, trasmettete un messaggio potente agli altri, li ispirate a fare lo stesso. Ma il coraggio di essere se stessi va oltre l'individuo. Ha un impatto duraturo sulla società nel suo insieme. Immaginate una società che celebra la diversità anziché cercare di omologare. Un luogo in cui ognuno è libero di esprimersi senza paura di essere giudicato. Questo non è solo un sogno utopico, ma una visione realizzabile che può iniziare con ognuno di noi. In questo percorso verso l'autenticità, è importante anche abbracciare la vulnerabilità. Essere se stessi significa mostrare al mondo le proprie fragilità, ma è proprio in questo atto di coraggio che si crea una connessione più profonda con gli altri. Quando ci permettiamo di essere vulnerabili, apriamo la porta all'empatia e alla comprensione reciproca. Oggi, vi sfido a riflettere sulle maschere che indossate nella vostra vita quotidiana. Cosa c'è dietro quei sorrisi forzati o quelle risposte conformi? Scavate profondamente e scoprite la vostra vera essenza. Troverete che la vostra autenticità è un faro che può illuminare il cammino non solo per voi stessi, ma anche per coloro che vi circondano. In conclusione, vi esorto a abbracciare il coraggio di essere voi stessi. Non solo per il vostro bene, ma per il bene di tutti coloro che incroceranno il vostro cammino. Siate la voce che rompe il silenzio, la luce che dissolve l'oscurità. Il mondo ha bisogno della vostra autenticità, della vostra unicità. Siate coraggiosi, siate autentici, e vedrete crescere un giardino di speranza e ispirazione intorno a voi. Immaginiamo insieme la storia di Lucia, una giovane donna che ha trascorso gran parte della sua vita cercando di adattarsi agli standard imposti dalla società. Fin dall'infanzia, le è stato insegnato che la sua felicità dipendeva dalla conformità alle aspettative degli altri. Ha indossato maschere invisibili per nascondere la sua vera essenza, temendo il giudizio e la disapprovazione. Un giorno, Lucia ha deciso di abbracciare il coraggio di essere se stessa. Ha tolto la maschera, permettendo al suo vero io di emergere. Inizialmente, ha affrontato sfide e giudizi, ma ha anche sperimentato una libertà che non aveva mai conosciuto. La sua autenticità ha ispirato coloro che le stavano intorno a fare lo stesso. La sua storia è diventata un faro di speranza per molti, dimostrando che la vera bellezza risiede nella genuinità del cuore. Questa storia ci insegna che essere se stessi non è solo un atto di coraggio personale, ma un atto di amore verso gli altri. Quando siamo autentici, ispiriamo gli altri a fare altrettanto. La nostra sincerità diventa un catalizzatore per il cambiamento positivo, creando un effetto a catena che può trasformare intere comunità. Ora, consideriamo il caso di Marco, un uomo che ha lottato con la sua identità per anni, nascondendo la sua vera natura per paura di essere emarginato. Attraverso il coraggio di essere se stesso, ha finalmente trovato il coraggio di rivelare al mondo la sua verità. L'empatia e la comprensione che ha ricevuto sono state sorprendenti, dimostrando che spesso le barriere che immaginiamo sono solo costruzioni della nostra mente. La lezione da trarre da Marco è che la società può evolvere quando ognuno di noi abbraccia la diversità. La sua storia ci sfida a riflettere su quanto spesso giudichiamo gli altri senza conoscere veramente la loro storia. La consapevolezza di questa verità può essere il primo passo verso una società più inclusiva e accogliente. Ora, rivolgiamoci a voi, cari ascoltatori. Ciascuno di voi ha la propria storia, i propri desideri e le proprie paure. Vi invito a esplorare il vostro mondo interiore e a chiedervi, chi siete veramente? Quali maschere indossate per proteggervi? E cosa potrebbe accadere se aveste il coraggio di toglierle? Il coraggio di essere se stessi non è solo un atto individuale, ma un dono che possiamo dare agli altri. Quando abbracciamo la nostra autenticità, rompiamo le catene della conformità e apriamo la porta alla comprensione reciproca. La bellezza di questa esperienza risiede nel fatto che tutti possiamo contribuire a costruire un mondo più compassionevole, uno sguardo alla volta. In conclusione, cari amici, vi invito a intraprendere il viaggio verso il coraggio di essere voi stessi. Non solo per la vostra felicità personale, ma per la creazione di un mondo più amorevole e inclusivo. Ognuno di voi ha un ruolo cruciale in questa narrazione della vita. Siate l'autore audace della vostra storia, e insieme, creeremo un racconto di autenticità, comprensione e amore duraturo. Immaginate Alessia, una giovane artista che ha trascorso anni nascondendo il suo talento per paura del confronto con le aspettative della sua famiglia. Le sue giornate erano impregnate di rimpianti e il suo cuore pesava di un'insoddisfazione silenziosa. Un giorno, Alessia ha raccolto il coraggio di dipingere la sua verità. Le sue opere, cariche di emozioni autentiche, hanno ispirato non solo chi le guardava, ma anche coloro che, come lei, avevano nascosto i propri talenti per troppo tempo. Alessia ci insegna che il coraggio di essere se stessi può sbloccare potenziali straordinari, sia artistici che personali, che sono spesso sepolti sotto il peso delle aspettative esterne. Poi c'è Luca, un professionista di successo che ha dedicato gran parte della sua vita a costruire una carriera di prestigio, sacrificando tempo con la famiglia e le passioni personali. Un giorno, si è reso conto che il successo esterno non poteva compensare la mancanza di autenticità nella sua vita. Con il coraggio di fare una scelta difficile, ha riformulato la sua definizione di successo, bilanciando la carriera con il tempo dedicato alle relazioni e alle sue passioni. Luca ci mostra che il coraggio di essere se stessi può portare a una forma più genuina di realizzazione e contentezza. Entrambi questi esempi riflettono il potere trasformativo del coraggio di essere autentici nelle scelte quotidiane. La questione non è solo di grandi gesti audaci, ma anche di piccoli passi coraggiosi verso la consapevolezza di sé. Ognuno di noi ha la capacità di creare un impatto positivo, a partire dalle scelte più piccole e quotidiane. Vi invito ora a riflettere sulla vostra vita quotidiana. Quante volte avete rinunciato a essere voi stessi per conformarvi alle aspettative degli altri? Quante occasioni avete perso di connettervi autenticamente con gli altri a causa di maschere che indossate per proteggervi? Lasciate che queste domande penetrino nel profondo della vostra coscienza, perché è solo attraverso la consapevolezza che possiamo intraprendere un vero viaggio di trasformazione. Ognuno di voi ha una storia unica e un potenziale inespresso che può essere liberato attraverso il coraggio di essere se stessi. Immaginate un mondo in cui ognuno di noi abbraccia la propria autenticità e rispetta quella degli altri. Un mondo in cui le connessioni sono basate sulla verità e sull'amore, anziché sul conformismo e sulla paura. Il coraggio di essere se stessi non è solo un atto individuale, ma un atto di altruismo. Quando ci permettiamo di essere autentici, diamo il permesso agli altri di fare lo stesso. Creiamo uno spazio in cui ognuno può fiorire e contribuire con la propria unicità al mosaico della vita. In conclusione, cari amici, il coraggio di essere se stessi è un invito a un'esperienza più autentica e significativa della vita. Non abbiate paura di abbracciare la vostra verità, perché è proprio lì che risiede la chiave per una vita piena di significato e soddisfazione. Vi sfido a mettere da parte le maschere, ad aprirvi alle vostre emozioni più profonde e a camminare con fiducia sulla strada della vostra autenticità. Insieme, possiamo costruire un mondo in cui il coraggio di essere se stessi è celebrato come la forza straordinaria che è. Grazie, cari amici, per aver condiviso questo prezioso momento di riflessione sul coraggio di essere se stessi. Spero che le parole che avete ascoltato abbiano risvegliato pensieri profondi e ispirato la vostra ricerca di autenticità nella vita di tutti i giorni. Per continuare questo dialogo e sostenere il nostro canale, vi chiedo di compiere alcuni passi importanti. Innanzitutto, se non lo avete già fatto, vi invito a iscrivervi al canale. Iscrivendovi, diventate parte di una comunità che abbraccia il coraggio di essere autentici, di crescere insieme e di esplorare le molteplici sfaccettature della vita. Non dimenticate di lasciare un like se avete apprezzato il contenuto di questo video. Il vostro like è come un applauso digitale che ci motiva a continuare a creare contenuti che possano arricchire la vostra esistenza. La condivisione è un gesto potente. Se pensate che questo video possa ispirare qualcun altro, vi prego di condividerlo. La vostra condivisione può essere la scintilla che accende una riflessione profonda in qualcun altro, portando così l'autenticità e il coraggio in un angolo ancora più vasto del mondo. Infine, i vostri commenti sono tesori. Lasciateci sapere le vostre riflessioni, le vostre storie o le vostre esperienze legate al coraggio di essere voi stessi. Questo spazio è creato per voi, e ogni commento aggiunge valore a questa comunità. Grazie ancora per la vostra presenza e il vostro supporto. Con la vostra partecipazione attiva, possiamo continuare a crescere e a condividere storie significative che ispirano il coraggio di essere autentici. Iscrivetevi, lasciate un like, condividete e commentate, insieme possiamo costruire un luogo di connessione, ispirazione e crescita continua. A presto! Grazie a tutti!